Benvenuti nel canale Lady Gossip, la tua finestra sul mondo delle celebrità. Greta Rossetti si lascia andare alla scottante rivelazione. Ecco perché ti ho tentato nel villaggio dei fidanzati. Arriva il primo scoop sulla nuova coppia di Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti nascondono un retroscena clamoroso. Lunedì 31 luglio ha segnato la fine del viaggio nei sentimenti per le sette coppie arruolate nel cast di Temptation Island. Tra le storie più chiacchierate e? Spicca certamente quella tra il taciturno Mirko e l'ex fidanzata Perla. Lei, dopo aver cambiato città e stravolto le proprie abitudini in favore di una convivenza con l'imprenditore, aveva manifestato il desiderio di vedere il partner maggiormente propositivo e coinvolto nella relazione. Ma i percorsi di entrambi hanno preso direzioni differenti sin dall'ingresso nei rispettivi villaggi. Mirko Brunetti si è infatti avvicinato all'avvenente single Greta Rossetti, arrivando persino a prometterle un incontro al termine del falò di confronto con Perla. A distanza di settimane dalle riprese, la nuova coppia è tornata di fronte a Filippo Bisciglia per un resoconto sui loro progressi e progetti futuri. Davanti alle telecamere sembravano molto innamorati, ma Greta pare abbia un programma ben diverso. L'indiscrezione pepata La coppia sembra aver decisamente bruciato le tappe, Greta ha infatti già presentato la propria famiglia al giovane, e i due si sarebbero concessi una gita in barca con la madre dell'ex tentatrice. Dopo soli 21 giorni di reality, e qualche settimana di frequentazione lontano dalle telecamere. Inoltre, Mirko e Greta hanno compiuto un passo decisamente significativo, e quasi irreversibile. Si sono infatti tatuati la stessa frase, ovvero «i tuoi occhi», «la mia cura», «sul braccio», e l'hanno esibita fieramente davanti al conduttore. Un passo drastico. E che sembrerebbe suggerire la volontà di costruire un rapporto duraturo e appassionato. Ma una persona molto vicina alla bella Greta ha dichiarato che la tentatrice sfoggia il suo nuovo fidanzato ed elenca tutto ciò che possiede, la casa, l'azienda di famiglia, le proprietà. Non si concentra sulle caratteristiche di Mirko ma su ciò che ha. La segnalazione va ovviamente presa con le pinze, d'altro canto, imprimere lo stesso tatuaggio di coppia sulla propria pelle sembra un passo piuttosto impulsivo e privo di premeditazione. Non resta che seguire l'evoluzione del rapporto lontano dalle telecamere di Mediaset.